amici oggi siamo al lago di cei una giornata piovosa primaverile e vedremo il persico sole persico sole è un pese non è autoctono del lago è stato immesso nel lago all'octono e vedremo il posto dove è stata fatta la frega la frega sarebbe il posto dove vengono depositate le uova e fecondate quella macchia bianca che si vede il primo pesce il più grosso è un persico sole femmina che fa la guardia quello dietro il maschio ogni tanto si struscia sul ghaione e spella le uova e il maschio va sopra e spruzza lo sperma per fecondarle e fanno la guardia che non arrivano altri pesci persici a mangiare le uova sta iniziando a piovere nuovamente invece con queste immagini vi saluto ciao